Raccontava delle cose Addirittura Sì, la propria mano Che bella luce che ha questa Ha avuto una... Non so se è caduto in casa, non so perché Tutto per te? Una volta ho incontrato una produzione Questa firma, comunque sarebbe una La rende esperienza mi sembrava E' il mio primo film E pensare anche se il cinema è così Io non lo posso fare Io invece poi lo faccio No, ma è comunque Per un'idea di parlare Io dissi se il cinema è così Io non lo posso fare L'ho sperimentato Io non lo posso fare 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti